Giovanoletta, carta calamari e pinta, su! Allora, scrivi via! Hai scritto? Un momento, no? E cominci, su! Carta calamari e pinta! La carta! Signorina? Signorina? Dove sta? Sì, la signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È andata la signorina. Ecco lì, so. Signor... Avanti! Alivare, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh, signorina! Non era buona quella signorina? Ma già. Signorina, veniamo... Veniamo... Noi... Noi... Con questa mia a dirvi... Con questa... Veniamo noi con questa mia a dirvi... A dirvi... A dirvi una parola... A dirvi... A dirvi una parola... Che! 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 Uno quanto? Che! Uno che? Uno che? Che! Che! Scusate se sono poche! Che! Che! Scusate se sono poche! Ma 700.000 lire! Punto e virgola! Noi... 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 Ci fanno... Specie che quest'anno... Una parola... Una parola... Quest'anno... C'è stato... Una grande moria delle vacche! Una grande... Come voi... Ben sapete... Punto! Punto! Due punti! Ma sì... Fai a vedere che abbondiamo... Abbondandisi... Abbondandum... Questa moneta servono... Questa moneta servono... Questa moneta servono... A che voi vi consolate... Oh scrivi presto! Con l'insalata... Che voi vi consolate... Con l'insalata... Con l'insalata... Voi vi consolate... Ma capite il filo che ce l'ho tutta qui! Capite con l'insalata... Dai di spiacere... Che avrete... Che avrete... Che avrete... Che avrete... Che avrete... Femino... Femino... Che avrete perché? Che? Perché? Non so... Io non so... Perché che cosa? Perché che? Perché qua? Perché? Ah perché qua? La rispiacere che avete perché? Perché qua? E' aggettivo qualificativo no? Beh... Io scrivo... Perché... Dovete lasciare... Nostro nipote... Che gli zii... Che siamo noi medesimo... Di persona... Ma che stai facendo una faticata? Se asciugli su tuoi? Che siamo noi medesimo di persona... Vi mandano questo! Questo? Perché il giovanotto... È studente che studia... Che si deve prendere una laura... 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 Che deve tenere la testa... Al solito posto... Cioè... Cioè... Sul collo... Su... Punt... Punto e virgolo... Punt... Punt è un punto e virgolo... Troppo... Salutà... Lascia fare... Che dica che noi siamo provinciali... Siamo tirati... Salutandovi indistintamente... Salutandovi indistintamente... Sbrigati... Salutandovi indistintamente... I fratelli Caponi... Che siamo noi... Questa... Apri una parente... Apri una parente... Dici che siamo noi... I fratelli Caponi... Caponi... Hai aperto la parente? Chiudila... Ecco fatto... Vuoi raggiungere qualcosa? Ma io se... Vedi... Senza nulla a pretendere... Non c'è bisogno... In barinta da pierna... Beh... Ma va bene poi si capisce... Va bene si capisce... Sì che hai i lembi... Avanti... Spelto... Ecco fatto... Chiudi... Eh... Andiamo... Andiamo... Ecco... Ruciglio noi andiamo... Noi riusciamo! Tant'attendo... Apri... erti... Arrico... ... apri... Grazie.